Non sai quanto tempo ci vorrà, però se cominci, fallisci, capisci, riparti. Non puoi fallire. Hola! Allora, qui c'è un problema ed è anche abbastanza pesante. Prima di parlare di questo però voglio fare un passo indietro. Avrei potuto cominciare questo video in mille modi diversi. Avrei potuto infarinarlo e raccontarlo muovendomi, facendo, dicendo e bla 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 bla. Però voglio che sia quasi un video a parte. Quasi un video estemporaneo a tutto quello che avete visto fino adesso. Perché quello che mi sta succedendo potrebbe essere di aiuto a me in futuro per ricordarmi questa situazione. Spero che lo sia anche per chi sta vedendo questo video. Magari ne può trarre qualcosa di utile per se stesso. Fermi tutti. Benvenuti in una nuova sala di montaggio. Questa nota è importantissima per il proseguo del video. Nonostante abbia una camicetta bianca e i pantaloni un po' hippie, che sembra da guru barra figlio dei fiori, sappiate che questo contenuto, nonostante in alcune parti, può sembrare estremamente di insegnamento. Cioè che mi pongo con un tono di insegnamento nei vostri confronti. In realtà in quei momenti sto parlando a me stesso. Cioè è come se stessi parlando a me stesso. Le cose che ci sono in questo contenuto forse sono un po' troppo. Nel senso che mi apro veramente tanto. E l'intento principale era di parlare di qualcosa che sentivo tantissimo. di documentarla e di poterla rivedere in futuro. Anche perché, sinceramente, se avessi visto un contenuto del genere su YouTube tempo fa, l'avrei apprezzato veramente tanto. Quindi, nelle parti in cui sembro autoelogiativo, in realtà è quello che mi dico a me stesso tutti i giorni per continuare a fare quello che faccio. E nei momenti in cui sembro di insegnamento nei vostri confronti, in realtà lo sto dicendo a me stesso. Sottolineato questa cosa, spero che questo contenuto vi possa essere di spunto e che possiate prendere anche una piccolissima parte che magari vi piace e pensate che possa essere utile. Partiamo! YouTube non sta andando. Ok. Può sembrare banale, ma adesso entriamo nello specifico ed è tutto tranne che è banale come situazione. Analizziamo un attimo che cosa vuol dire YouTube non sta andando. E per farlo bisogna capire che cos'è YouTube. YouTube è uno strumento. Uno strumento che ha le sue regole, uno strumento che ha le sue funzionalità, è uno strumento che molti pensano che sia l'algoritmo che non ti fa andare avanti i video. Però in realtà, quello che dicono altri è il fatto che l'algoritmo segue principalmente i trend delle persone. Però dal mio punto di vista, da quello che sto vedendo, è tutto un miscuglio di tutto. È tutto un insieme di tutto. Non c'è il fatto che è l'algoritmo che non funziona, non c'è il fatto del trend solo delle persone. È tutto un insieme di cose che in qualche modo si va ad amalgamare. Ormai sono due anni e tre mesi che pubblico video su YouTube. Forse anche di più. Quattro, cinque mesi. Per quanto posso essere contento che c'è la mia fantastica community che mi iscrive sotto quasi ogni video, siamo pochi, però ci siamo. Ed è bellissima questa cosa. Allo stesso tempo, in questo momento dovrei essere a 1200 iscritti, con 150 video pubblicati. E lasciamo stare il numero degli iscritti del canale. Ma qui non sono nemmeno arrivato ad avere le ore di visualizzazione minime, cioè minime, sindacabili, per far sì che YouTube diventi monetizzabile. Questo non vuol dire fare milioni. Questo vuol dire cominciare a vedere 10 centesimi che salgono. Ok, che diventano 20, diventano 30, magari forse un euro un giorno. Quindi vi sto parlando proprio da un punto di vista simbolico della cosa. E adesso sto parlando di YouTube, però questa cosa si può affacciare a mille aspetti della vita di ognuno di noi. Adesso ci arrivo. Datemi un attimo il tempo di tracciare bene la linea. Scherzando, scherzando, con un mio carissimo amico ieri, parlando di YouTube, di come andare, di come non andare, questo, quello e quell'altro, scherzando, cercando di sdrammatizzare, però allo stesso tempo è una cosa in cui credo tanto, per me questi 150 video, 300 shorts, eccetera, eccetera, non sono un fallimento, ma ho trovato una miriade di modi per far sì che un canale YouTube non parti. Ok? E che è interessante, perché vuol dire che adesso ho una base solida di due anni, di prove, di prove, di prove, dove ho provato a replicare i video che sono andati forti, ho provato a fare delle cose solo mie, ho provato a fare, come sto facendo adesso, video ogni giorno, ho provato a fare delle cose lineari, ho provato a cercare di fare delle cose diverse, ne ho provate di ogni, e questo è una figata, perché vuol dire che ho una base solidissima, sul quale, una volta che finirà questo progetto, mi prendo un periodo di stop, mi guardo tutto quello che è stato fatto, e da lì ricomincio a ricostruire cose. E nonostante questa sia una cosa estremamente positiva, è un altro il discorso. Il discorso è che, ripetendomi in me questa frase, del fatto che per due anni e passa non abbia nemmeno superato le 4.000 ore di visualizzazione, avendo pubblicato 150 video, passate le ore, col passate le ore e col trascorrere della giornata, sono arrivato ad oggi, e a un certo punto ho sentito una pesantezza non indifferente, di angoscia, di ansia, di tristezza quasi, e adesso mi vedete così, però senza volerlo, a un certo punto mi sono ritrovato per mezz'ora, che sembrava una diga che perdeva. C'ho questo grande vantaggio e questo grande difetto, che sono molto emotivo. Quindi avevo bisogno di sfogare questa roba, no? Che se però dovessi porre in un altro modo, è come se voi andassi all'università per 2 anni e 5 mesi, e non riuscite nemmeno a dare un esame. Riuscite a finire il libro, riuscite a fare questo, riuscite a fare quello, riuscite a fare quell'altro, però non vi promuovono. Cioè siete sempre fermi là. Le avete provate di ogni, avete provato a fare quello, avete provato a fare quell'altro, quello va, però siete fermi là. Dopo 2 anni e mezzo, non siete riusciti nemmeno a dare un esame. Ed è una cosa molto simile. Pensate a questa cosa in un lavoro, qualsiasi esso sia. Il vostro sogno era aprirvi una pasticceria, aprite la pasticceria, fate i sacrifici, fate quello, per due anni la costruite, la costruite la costruire, poi dentro a sta pasticceria non entra un cazzo di nessuno. O comunque avete le persone che sono affezionate a voi, però non vi permette di poter giustificare l'avanzamento dell'attività. Però allo stesso tempo, la cosa che ho notato, che è cambiata tantissimo, che in una situazione del genere, anni fa, sarei rimasto in questo stato di angoscia, probabilmente sarei rimasto a guardare il soffitto e avrei passato la giornata in una desolazione e disperazione più totale. E invece, in questo caso, quello che è successo è che nel frattempo che sentivo tutta questa pesantezza del fatto che in due anni e mezzo non si è nemmeno riuscito ad arrivare al valore minimo per far andare i video, nel frattempo stavo editando un video, nel frattempo stavo facendo una cosa, nel frattempo che percepivo tutto questo male, continuavo a fare quello che mi ero detto che dovevo fare questa giornata per far sì che fosse una giornata produttiva. E probabilmente questa è la vittoria più grande, il fatto che negli anni abbia imparato a non mollare e lo stia imparando sempre di più, abbia imparato ad accogliere gli stati d'ansia, gli stati di tristezza, gli stati di panico anche, a volte. Tutti questi stati dove solitamente uno cerca di sfuggire, cerca di evitarli il più possibile, invece il fatto di aver imparato ad accoglierli e il fatto di starci dentro, però allo stesso tempo, senza far sì che ti impediscano di fare quello che vuoi fare, quella è la vittoria più grande. Però allo stesso tempo è stata una conquista. Anni fa, ripeto, in una situazione del genere passavo da momenti di estrema depressione, in momenti di estremoforia, mi sconsolavo subito, non facevo le cose, ero completamente improduttivo, ero completamente in balia degli stati d'animo. Però sappiate che, almeno per quanto mi riguarda, ma penso che sia una cosa un po' di tutti quanti noi, è il fatto che questa roba si conquista, non è una cosa con il quale si nasce. Come si può fare? In mille modi diversi. Ognuno trova il proprio percorso. Uno dei tanti, che è quello più efficace, cui mi sento molto, è lo sport, ovvero andare a correre. Hai voglia, non hai voglia, questo, quello e quell'altro vai a correre. E a correre, se sei stanco, non ce la fai, continui. Se sei stanco, non ce la fai, rallenti ma continui. Se sei stanco, non ce la fai, rallenti ma continui. Quello messo a lettura di libri, messo al fatto di andare dallo psicologo, messo a feedback da tante persone, messo in un calderone che chiamerei azione, mi ha portato a questo stato. E questa è una cosa. Quindi sicuramente non sono gli stati d'animo che mi impediranno di continuare questo percorso. Se mai vi dovesse sentire così, che in qualche modo vi sentite limitati dai vostri stati d'animo, sappiate che è un lavoro tosto, però un tassellino alla volta si può uscire da questa dipendenza ed è quello che ho cercato di fare. L'altro tassellino è che, l'avete visto, da quando ho iniziato questo progetto, ho avuto momenti sicuramente bellissimi, momenti interessanti, quello, quello e quell'altro, però allo stesso tempo ci sono stati momenti dove ho dovuto combattere con le ansie e le paure di farcela, di non farcela, di questo, di quell'altro. Ma poi ho realizzato che tanto YouTube è una conseguenza. Com'è una conseguenza dare gli esami? Com'è una conseguenza fare qualcosa che comincia a diventare importante a livello lavorativo, eccetera? È una conseguenza di tutte le azioni che fai nella direzione giusta. Che poi bisogna anche capire qual è la direzione giusta perché molto spesso uno comincia una direzione, si fissa con quella direzione, però magari è sbagliata. E proprio per questo è molto importante fermarsi a un certo punto e capire cosa si è fatto e valutare se quella è la strada giusta o cambiarla. Appena finisce questo progetto periodo di fermo. Ho bisogno di rianalizzare tutto. Ho bisogno di riorientarmi. Però come fai ad andare avanti in una cosa che ti puoi impegnare quanto vuoi? Visto che sai che è una conseguenza di tutte le tue azioni e visto che non c'è niente di certo, come fai ad assicurarti che poi in qualche modo vinci lo stesso in quella cosa? Perché, che so, nel caso di YouTube, io so che prima o poi questo canale partirà. Però non so quando. Non so se fra un mese, fra una settimana, fra un anno, fra due anni, fra tre anni. Boh, chi lo sa. E quindi quello che ho realizzato è che in realtà la cosa più importante in tutta questa questa nuvola di incertezza è mettersi in una situazione dove sai di aver già vinto. In una situazione dove una volta che finisci quello che hai fatto, indipendentemente da quello, da come va, tu sai che hai già vinto. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche se YouTube non parte, anche se YouTube adesso è zero a livello di visualizzazione di video per quello che vi dicevo prima. Cazzo, ho fatto un viaggio di quattro mesi pubblicando un video al giorno in cinque paesi diversi, sconfiggendo il più possibile le ansie, le paure, le preoccupazioni, facendomi un mazzo così e adesso mi sto facendo l'ultimo pezzo usandomi tutto il Vietnam in moto. Cioè, ma una volta che finisce questo progetto come faccio a dire di aver perso? Ho già vinto, ho già vinto tutto. Ho detto che volevo fare una cosa, me la sono impostata, ho deciso di perseguirla e per perseguirla ho dovuto rinunciare a un sacco di cose per partire. Perché mi sono dovuto mettere i soldi da parte, ho dovuto rinunciare a lavori importantissimi, ho fatto questo, ho fatto quell'altro che tra l'altro sono tutte cose che non torneranno più indietro. Sono partito, ho fatto tutta questa roba qui e adesso ci mancano mille chilometri per arrivare alla destinazione, ovvero la capitale del Vietnam. Dopo circa diecimila chilometri. Come cazzo faccio a dire di aver perso? E già adesso che mancano mille chilometri è una vittoria assoluta. Ci tenevo tanto a condividirvi questa cosa perché, come vi ho detto dall'inizio, adesso è YouTube, ma è un concetto che si può approcciare a qualsiasi cosa nella vita, a qualsiasi nuovo progetto, a qualsiasi nuova cosa che non sai quando andrà. Però mi sto rendendo sempre più conto che la cosa più importante è in qualche modo mettersi in una situazione dove come va, va. Ammettiamo il peggiore dei casi fallisce tutto a livello materiale del progetto che volevi costruire. La cosa più disastrosa tu bisogna mettersi in quella situazione dove hai già vinto, ti sei già fatto un culo così, hai già sconfitto le paure, le ansie, quello, quello, quell'altro e se quella roba non va, amen! Adesso riparti, fai una nuova cosa, capisci come migliorare quella cosa lì. Mi rendo conto come sempre che sembra un tono di insegnamento, però in realtà tutte queste cose che sto dicendo è perché me le voglio ripetere a me stesso. Infatti questo video lo condivido con voi, però allo stesso tempo sarà sicuramente uno di quei video che avrò il bisogno di riguardarmi in futuro. fallire, ripartire, fallire, ripartire, fallire, ripartire, fermarsi, continuare. Non sai quanto tempo ci vorrà, però se cominci, fallisci, capisci, riparti. Cominci, fallisci, capisci, riparti. Non puoi fallire.